Ciao a tutti e benvenuti su MyTubballJersy, io sono Stefano e oggi vi presento la maglia da trasferta del Club America per la stagione 21 e 22, nella versione fan, quella cioè dedicata ai tifosi. Questa maglia è prevalentemente verde scuro, nel basso della maglia ha questi motivi di colori verdi, di diverse tonalità di verde. Tutte le rifiniture sono di colore giallo, come ad esempio gli sponsor, le bande laterali, gli sponsor sul retro, sulle maniche. Nella versione fan lo stemma e il logo sono ricamati, tra l'altro una particolarità di questa maglia è che gli sponsor non sono termosaldati ma sono proprio stampati nella maglia, poi lo vedrete nei dettagli. Nella mia personale classifica questa maglia prende 4 stelle, non è di una squadra conosciutissima ma è veramente una bella maglia, una maglia che secondo me va portata anche nel day by day, tutti i giorni, nella vita quotidiana. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete i dettagli, ci vediamo alla fine per le misure della vestibilità. Ciao! Come vi dicevo nella versione fan lo stemma e il logo della Nike sono ricamati e la particolarità di questa maglia è appunto che gli sponsor non sono termosaldati ma sono stampati insieme alla maglia. Sul fianco della maglia c'è questo dettaglio giallo molto bello. Questa maglia in versione fan è realizzata con la tecnologia dry fit. Il retro della maglia, a differenza del fronte, è completamente verde scuro. Nelle maglie mexicane, come potete vedere, ci sono molti più sponsor che non nelle maglie europee. In questa ne contiamo 5. Vi è piaciuta? Ora prima di lasciarvi la parte in cui vedrete le misure e la vestibilità, vi prego di mettere un like al video e iscrivervi al canale. Al prossimo appuntamento, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg e questa è una taglia medium della fan version. Grazie a tutti! Ciao!